Con questo video intendo spiegare il funzionamento di Posterazio che è questo programma qui, fantastico, e permette di trasformare delle immagini come questa in un poster. Un poster della dimensione desiderata e quindi permette di passare da un'immagine di stampa A4 a un'immagine di riutilizzare una pantina di scuola o familiare per uno scopo ben diverso che è quello di rendere pubblico un lavoro. Vediamo come funziona, basta aprire, cercare con questo pulsante l'immagine da ingrandire, in questo caso si chiama riforma protesta e verifico che l'immagine è questa che intendo ingrandire, nel passo successivo decido se ingrandirla per il verso per il verticale o l'orizzontale, nel passo successivo quali saranno i luoghi di contatto delle parti ingrandite dove sarà opportuno incollare le parti, in quanto il programma realizza praticamente un puzzle. Ecco la scelta che io ho fatto di incollaggio, scelgo se ingrandimento metterlo al 100 o in basso, qui stabilisco in basso perché voglio scrivere qualcosa a mano nella parte alta e se volessi fare più pezzi, più ingrandimenti, qui sono già a 69 x 84 cm, ma non è questo il mio interesse, il mio interesse è avere un ingrandimento ma non eccessivo e fatto questo passaggio scelgo al passo successivo il salvataggio, quindi salvo questo ingrandimento come pdf, lo chiamerò protestantesimo, lo su desktop è per poterlo revisionare immediatamente, chiudo il programma perché protestantesimo si sta già aprendo, eccolo qui, quindi posso già verificare se il lavoro è stato fatto come avevo intenzione io, aspettiamo che si carichi e il pdf dovrebbe ritornarmi, l'immagine è stata replicata 4 volte, nelle parti di contatto c'è una piccola parte che si sovrappone per permettermi la cura e la precisione, l'incollaggio sarà bene farlo sopra un foglio di carta grande almeno quanto questo, verifico che la parte alta sia bianca per poterci scrivere e quindi la mia mappa concettuale, la mia foto di classe, il mio schema scorporeo, qualsiasi cosa può essere ingrandito con una tecnologia abbastanza bassa con degli strumenti, si chiama Posterazor, eccolo qui, è per Linux, Windows e Mac ed è facilissimo da usare come ho appena dimostrato e quindi buona sperimentazione grazie a tutti 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 grazie a tutti